Ci sono cretini che hanno visto la Madonna e ci sono cretini che non hanno visto la Madonna Io sono un cretino e la Madonna non ha visto mai Tutto consiste in questo vedere la Madonna o non vederla San Giuseppe da Copertino, guardiano di Porcio Si faceva le ali frequentando la propria maldestrezza e le notti in preghiera si guadagnava gli altari della Vergine a bocca aperta, volando I cretini che vedono la Madonna hanno ali improvvise sanno anche volare e riposare a terra con una piuma I cretini che la Madonna non lo vedono non hanno le ali legati al volo e pure volano lo stesso e invece di posare ricadano come se un tale avendo i piombi alle proviglie e volendo distarsi decide di tagliarsi pieno e si trascina verso la salvezza tra lo schermo i guardiani, fidenti a ragione e metamologia e di niente, che rifergeranno e quelli che vedono non vedono quello che vedono quelli che volano sono essi stessi qualcuno chi vola non si sa non si fa compagno niente tutti a vedere la Madonna è sembra una Madonna che vedono per l'estasi questa paradossale identità dell'anziale risuota l'orante per i suoi soggetti e in cambio lo chiude nell'auditurazione di sé dentro un altro oggetto tutto quanto è diverso è Dio se vuoi stringere sei di un complesso quando baci la bocca seda divina è l'illusione questo è un santo così è di tutti i santi fondamentalmente impreparati anzi innegati gli altari muovono verso di loro macchinati dal tecchismo e da loro psicosi o da forze tecnuriche equilibranti ma questo è il risultato è così che un santo perde se stesso tramite diversi e incontro in alto un valutare comincia dove finisce la misura essere santi e perdere il controllo rinunciare la peso e il peso e organizzare la propria dimensione dove è passata una strega passerà una frata se frate Asino avessero regalato una mela a metà verde e a metà rossa per metà ovelenata lui che aveva le mani di burro l'avrebbe perduta di mano lui non poteva perdersi o salvarsi perché senza intenzione il netto chi non ha mai pensato alla morte è forse immortale è così che si vede la Madonna ma i pratini che vedono la Madonna che non la vede ogni due occhi che fissano due occhi attraverso un muro miracolo è la trasparenza sacramento per questa demenza perché una fede accecante li ha sbarrati questi occhi ha mutati di strada ed ogni cianca di strada le ha mutati di me e gli occhi hanno visto la vista come sull'arca un uomo così cerco se spogedìva l'oggettivo e gli occhi che si non è un ruino è un ruino